Senti che non le canti più. Qual'è il suo? Qual'è il tuo ultimo direi? Sì, però quando gli dici queste cose, tu sei il genere di uomo che ce l'ha con la loro cosa a quel tuo attengo, come dici? Tu sei un affronto per il genere femminile. E quando gli dici questa cosa cosa gli dici? Che è un'offesa che gli dici. Sei come la maggior parte degli uomini. Tu sei come la maggior parte degli uomini. Tu sei un affronto al genere femminile mostroso, alla cosa a cui appartengo. Quindi è una cosa che tu gli vuoi fare capire. La presa per il culo arriva molto dopo. No? La presa per il culo è uno stadio dopo.